Il posto che regalava agli industriali, la buttiamo! Se vuoi a casa c'è una stanza libera. E lì la Sardegna la senti veramente. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Lei provi a cercare in giro e vede se qualcuno può aiutarla. Perché altrimenti la banca si prende la sua casa. Minna, questa è internet. Questa è la patria dei sognatori. Va bene, facciamo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ma questa non è Caterina. Questa è Tonina, la figlia di Michelin. Oh, perché ce ne fottono uno bravo ai coro? Vai avanti, vai! E adesso? Ci prendiamo tutto il cazzo del bar! Beh, a quanto siamo? Troppo, no. Quanto? Gugia di amod Alyssa. No. Quanto tempo? Quanto tempo? I'mon.